Io sono morto su quella montagna. Non c'è dubbio. Una parte di me rimarrà per sempre su quella montagna, insieme ai miei fratelli. Ma una parte di me è sopravvissuta, grazie ai miei fratelli. Grazie a loro sono ancora vivo. E non dimenticherò mai che per quanto sia doloroso, per quanto sia spaventoso, o per quanto lontano si vada... Non si abbandona mai la battaglia. Mauri fa viaggiare ancora Candreva. È partito il traversone. Lobons e poi mette dentro l'Ulice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.